I piccoli risparmiatori italiani hanno deciso di dare fiducia allo Stato. Così si spiega il successo del primo giorno di collocamento del BTP Italia. L'obbligazione che per durata e rendimento si presta ad essere comprata dai piccoli cassettisti. Coloro che acquistano cioè non per rivendere subito, speculare, bensì per mettere i soldi sotto un sicuro materasso garantito dalla Repubblica Italiana a riparo dal carovita. Quasi 9 i miliardi di euro piazzati oggi al tasso del 2,25% reale e garantito, nel senso che copre dai rischi dell'inflazione. E per chi si tiene i titoli fino alla scadenza c'è un premio dello 0,4%. Maria Cannata, la signora dei botti, il manager del tesoro che decide come e quanto debito pubblico vendere, soprattutto quando, può dirsi soddisfatta. L'asta precedente infatti era andata a Maluccio, un miliardo e sette. Solo domani pomeriggio alle 5 e mezza sapremo se sarà ripetuto l'exploit della seconda asta che tocca invece il record, 18 miliardi. Ora il tesoro avrebbe potuto mantenere il collocamento fino a giovedì, ma poco fa ha deciso di chiudere le aste domani sera. Vendere troppe botte a quattro anni in un colpo solo non va bene. Lo Stato italiano ha bisogno di avere titoli molto più longevi, a 10 se non a 30 anni, per evitare di fare aste frequenti. Purtroppo il buon risultato dell'asta non ha fatto calare lo spread, il differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi. A pesare sul mercato dei titoli e sulle borse, oggi tutto in rosso, sono state da una parte le parole di Mario Draghi. Ci sono miglioramenti sulla crisi europea, ha detto il presidente della BCE, ma all'orizzonte ci sono ancora grossi problemi. Dall'altra i dati negativi sull'economia cinese, negativi si fa per dire, visto che invece di crescere dell'8% di media, il PIL cinese è cresciuto del 7,7% ad averli in Italia questi problemi. La nostra economia in recessione purtroppo ha altre gate da pelare, come il crollo delle compravendite delle abitazioni. Nel terzo trimestre dello scorso anno, meno 23% su base annua, il dato peggiore degli ultimi cinque anni.